Oggi è il 26 dicembre 2021 e l'astro d'argento, sorella luna, brillata nel cielo blu, mentre il mare, allegro e sorridente, canta il suo canto di Natale. E la terra ci saluta, con il portale dello scoglio del leone che dorme, e il sole, lassù nel cielo, splende alto e luminoso, ricordandoci che la luce vince sempre. Ma quest'oggi, oltre a salutare Madre Terra, sorella Aria, sorella Acqua, sorella Luna e tutti gli elementali di questo luogo di potere e di Madre Terra Gaia, vorrei parlarvi di un avvenimento assai importante, che riguarda il portale cristico. Il portale cristico, che ci collega direttamente al sole centrale, al Cristo solare. Il portale cristico, che si apre nel cuore, oggi, ed è aperto dal 24 dicembre al primo gennaio. E questo portale, di cui siamo dentro, ha un'energia estremamente potente ogni anno, ma quest'anno ancora di più, perché quest'anno l'energia è estremamente potente. E allora, approfittando di questo dono planetario, questo portale che si apre nel nostro cuore, oltre che affacciato su un'altra dimensione, collegatevi alla luce cristica. Collegatevi al Cristo, al Cristo solare, al Cristo cosmico, perché Lui ha promesso, il Cristo cosmico sta per ritornare sul pianeta. Lo ha detto più volte, e lo ha ripetuto, e mi ha detto, non avere paura, non avere vergogna, dillo a tutti che il Cristo cosmico sta per tornare sulla Terra. E allora io lo dico a gran voce, in occasione di questo portale cristico, ti aspettiamo, Cristo, ti aspettiamo su questo pianeta. E nel frattempo faremo del nostro meglio per servire il bene, la luce e l'amore. Leone della tribù di Giuda, svegliati e torna ruggente. Grazie Padre e Madre. Amen.